Parte da oggi la campagna per le primarie di Luciano D'Alfonso. Ha scelto un camion, lo ha chiamato Regione, e da questa giornata intraprenderà un viaggio per tutto l'Abruzzo che lo porterà a toccare fino al 9 aprile, data appunto delle primarie, 200 comuni, le città di stretto, le aree di maggior pregio e bisogno, università, ospedali, strutture del terzo settore e quant'altro. Obiettivo raccogliere le istanze di cittadini e istituzioni, esporre le proprie idee ed il proprio programma, assumere impegni. Ha scelto un luogo che gli è caro, l'Aurum, riqualificato sotto la sua amministrazione comunale, per presentare la sua campagna per le primarie. Ma di fronte ad una gremitissima sala Tosti, D'Alfonso va già oltre e snocciola la Regione che potrà essere, se dovesse, diventare governatore. Non lo cita, ma lancia una bordata al governatore Gianni Chiodi. La ricostruzione doveva essere gestita meglio, sfruttando al meglio il bienio 2009-2010 per ottenere il massimo, ma non c'è stata la capacità di farlo. Anche se il tempo sembra scaduto, fa presente D'Alfonso, non lasceremo solo all'Aquila, che anzi sarà una priorità. Tra le prime cose da fare, una legge obiettivo con 10 punti tematici, tempi certi di raggiungimento, responsabili da sottoporre a verifica, in particolare assessori, manager, amministratori. D'Alfonso vede una Regione capace di attrarre investimenti europei e che debba puntare forte sulle alleanze, con Marche e Molise sull'asse adriatico, con Lazio e Umbria, quale cerniera centrale e ancora. Nei primi quattro mesi noi vogliamo definire il dettaglio degli obiettivi di un'agenda Regione. Nei 50 mesi successivi adotteremo provvedimenti, decisioni. Nei quattro mesi restanti noi vogliamo che vengano esibite le fotografie dei risultati raggiunti. Gli ultimi mesi non verranno più toccati per fare in modo che si modifichi la legge elettorale o per cercare aggiustamenti in un qualche modo fantasmagorici. Gli ultimi mesi serviranno per esibire le fotografie dei risultati raggiunti, in maniera tale che la Regione dei giovani, delle donne, delle persone, delle imprese, dei volontari, possano poi tutti insieme giudicare cosa ha combinato la classe dirigente. Il primo impegno che prendo è rendere misurabile ciò che combina la classe dirigente, giudicabile, verificabile. E' per questo che preferiamo essere puntuali negli impegni per consentire poi la puntualità del giudizio. A chi mi chiede dove trovare le risorse per fare, prosegue D'Alfonso, rispondo a che ci sono tre livelli, risorse finanziarie, quelle cui attingere di più però sono quelle normative e quelle delle idee. E chiude il suo principale intervento con un appello, aiutatemi a non produrmi nemici. Ho studiato per fare l'amministratore pubblico, ho fatto esperienza per fare l'amministratore pubblico, ho conosciuto il dolore per fare l'amministratore pubblico, ho mantenuto un rapporto vigoroso con cittadini, persone e comunità. Non ho mai coltivato il distanziamento e il nascondimento dalla cittadinanza. Non faccio parte di quel pezzo di classe dirigente che odia i cittadini e li vuole incontrare solo al momento del voto. Ci sono eletti che quando vanno nei ristoranti o al bar vogliono sapere quanto poco sono quelli che ci stanno lì dentro. Per una specie di rapporto conflittuale con le moltitudini e anche con le comunità di persone. Gli ultimi quinquenni sono stati quinquenni che hanno determinato l'individuazione per fatti abbastanza fortuiti. Per circostanze quasi concepite da Crizia. Questa volta deve essere la democrazia del voto a stabilire chi deve farsi carico del futuro dell'Abruzzo. Mi auguro che anche grazie al camion regione, che ha la forma concava per accogliere dentro di sé, ma ha la potenza per realizzare, aumenti il numero di coloro i quali vanno a votare.